che bello iniziare il 2023 l'uno febbraio si gennaio vai al cinema dici che bello un nuovo anno nuove soddisfazioni e ti esce questo i giorni migliori regia di eduardo leo massimiliano bruno per soggetto e sceneggiatura sempre loro insieme a sta beatice campagna ma che cazzo hanno fatto sti tre e titoli davanti già già ve lo posso dire a uno dei film più brutti dell'anno cioè non per esperienza so che un film così non lo posso digerire non è dimenticabile non è inutile proprio te lo sei stampato in testa per quanto è pretenzioso perché eduardo leo l'attore che a me piace che ho trovato simpatico ho trovato bravissimo nella deo fortuna lui fa sempre la sua figura nei suoi film come spalla comica qua vuole esagerare vuole fare un po la siccità di come si chiama di vabbè non mi ricordo il regista ve lo ve lo cercate e che ho portato la recensione sul canale mi pare e la si voleva strafare anche qua si vuole strafare perché vuole copiare la formula dei mostri e dei nuovi mostri di risi quindi con quattro racconti che trattano di quattro storie diverse che non si collegano sull'italia quindi abbiamo aspettate natale capodanno la festa della donna e poi san valentino con quattro spaccati sociali che fanno rabbrividire salve sono alcalina hammer benvenuti iscrivetevi al mio canale mi raccomando perché questo duo in questo termine 23 ho un grande obiettivo arrivare mille e sostenetemi perché porto tutte le uscite settimanali al cinema soprattutto ma anche sulle piattaforme quindi senza perdocin chiacchiere andiamo avanti farò spoiler perché non c'è niente da spoilerare in questi quattro racconti e vado per ognuno di questi anzi vi dico che è sconsigliatissimo da tutti i punti di vista attualmente recita male pure la Gerini non ho capito come cazzo sia possibile tutti recitano male sembrano usciti che ne so sbronzi dal bar a livello tecnico è davvero misero e le sceneggiature di queste specie di mediometraggi sono terrificanti perché vogliono parlarti dell'italia post covid che in ginocchio e con vari problemi che ci attanagliano e vogliono essere molto importanti nel nel trattare questi contenuti quindi lo fa malissimo con un qualunquismo un populismo un livello di approfondimento che è pari a zero e quindi fa solo incazzare in sala si rideva chi la signora di 50 anni che vuole vedere argentero che fa le corna alla moglie e questo cioè si ride per quello non penso che ci sia altro motivo per per farlo quindi parte spoiler dove tratterò di tutti i vari corti mediometraggi perché devo dire due cosine quindi spoiler fra cinque eccoci in parte spoiler velocemente ragazzi so stanco primo e poi non voglio perdere tempo con sta merda colossale primo prima parte sul sul natale che vuole trattare il tema del covid ma voi direte ma vuole trattare i grandi temi degli infermieri che hanno lavorato i grandi problemi secondari del covid della crisi finanziaria no i vax contro i no vax cioè è questa la fine non è che e c'è questo puerile sconto di opinioni che che teoricamente sarebbe stato anche interessante un bel dialogo come dice anche quel cazzo di senatore lì membro anziano del partito della minchia invece diventa una scazzottata quasi con questi luoghi comuni che che precipitano come se fosse non lo so una cascata di merda e tu vedi e pensi ma ok ma che cosa sto guardando e me ne stavo a casa mia e a natale vedevo i miei parenti litigare ubriachi e sarebbe stato uguale non c'è il minimo approfondimento delle gag che non fanno ridere con una anna foglietta anna mi pare si chiama sempre insopportabile sempre monotematica nelle sue interpretazioni che la donna cazzuta no quello di successo quella di potere che si incazza e anche qua fa la donna non interessante il film scusate il primo corto è davvero imbarazzante perché tutte le storie vogliono raccontare qualcosa di importante in realtà come vediamo successivamente il primo è davvero orribile perché vuole trattare il tema del novax con una superficialità davvero senza limiti senza vergogna con un finale che vorrebbe essere anche di critica perché alla fine tutto si risolve con loro che non hanno litigato per davvero alla fine si sa che l'anno prossimo andanno a trovare il padre perché sono una famiglia unita sotto sotto e si vogliono bene bello mi è piaciuto bella merda secondo corto è quello di capodanno che trattava che già non mi ricordo più l'ho visto due ore fa e già non mi ricordo più cosa trattava del politico con la moglie a il politico il magico mediometraggio sul politico interpretato da un sempre inutile max tortora davvero wow e che parla di questo populismo nel mettere alla berlina la politica italiana sono e sono d'accordo di mettere in ridicolo la politica italiana e questi senatori che hanno i soldi no questo è un industriale in realtà comunque dei ricchi che sfruttano i poveri addirittura vanno a questa cena di beneficenza di capodanno e quindi li metti in ridicolo con la figlia che sniffa coca e c'è il personaggio di paolo calabresi che in realtà è che dovrebbe rappresentare il terzo stato il popolo che si ribella bla 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 ok ho capito il discorso però è didascalico è poco approfondito cerco di spiegarmi se tu vuoi crearmi un bel villain con cui io devo affondare il colpo dire sì lui è il male dell'italia non deve essere stereotipato non deve essere un cliché da film degli anni 70 brutto no deve essere un personaggio sfaccettato che io posso criticare fino in fondo mi sa che l'ho rifatta quindi l'ho attaccato al montaggio no dicevo che se vuoi criticare una figura come quella del politico italiano io la devo conoscere fino in fondo e devo criticarla sotto ogni punto di vista perché sia credibile e quel personaggio quella famiglia era ben poco credibile oltre al solito diciamo senso di rivolta che chiunque vedendo può avere il ribrezzo verso quei personaggi poi ci sono anche sorta di un grande discorso capito sul razzismo perché c'è il il vagabondo di colore che se la prende con gli altri non parla bene italiano e allora il vagabondo italiano dice a voi devo andare via venite qua per rubarci il pane cioè delle una sorta di grande discorso che vorrebbe far riflettere lo spettatore che non fa riflettere proprio nessuno con un finale aperto perché noi non sappiamo che fine fanno esplodono entrambi morirà di tumore lui chi lo sa anche qua non si chiude neanche il discorso complimenti i vari sceneggiatori fate davvero cagare terzo corto quello di sì questo lo so di san valentino me lo ricordo forse il più carino no meno brutto usiamo il termine giusto meno brutto perché almeno si parla di personaggi veri sì un po clichettosi con un argentero che fa davvero schifo come personaggio sempre uscito da quando l'amore non no aspetta era love actually ecco dove c'era quello di gresan atomi che mi ricordo il finale della della sua storia che era da solo a capodanno perché tutte le donne che aveva invitato fuori lo avevano mollato quindi lui era disperato sul letto che beveva da solo ecco una cosa così ecco questo luca argentero che è sposato con la bella valentina lodovini ma che frequenta in realtà quella attice pessima che non è neanche ecco addirittura maria chiara cento rami non è neanche su wikipedia tutti hanno la scheda su wikipedia lei non ce l'ha facciamoci due domande comunque frequenta quest'altra donna ogni fa il doppio gioco e quindi c'è tutto questo questi triangoli che si creano prima fonda lodovini e argentero e questa clarissa poi si mette di mezzo la greta greta scarano una brava greta scarano la bionda daniela eccetera eccetera questo almeno è solo inutile essenzialmente questo perché gli attori danno un minimo di risalto soprattutto la lodovini e la scarano riescono un po a reggere la scena argentero un po imbarazzante l'altra non ne parliamo nemmeno il finale può essere anche accettabile però fa il tutto non è interessante non è interessante per niente quarto e ultimo medio metraggio per che occhio che ho già rimosso e incredibile ce l'ho visto alle e non me lo ricordo più talmente interessante l'otto marzo mamma mia l'otto marzo madonna sotto marzo parla della gerini che è questa non lo so una specie di si condutti c'è una specie di barbara d'urso però un po più intellettuale che si batte per i diritti delle donne che deve fare sta sta trasmissione e allora le dicono di fare questo comunicato dove lei si deve scusare per una cosa fatta sulla sua rete sul suo programma dove però lei non era coinvolta dove si metteva il ridicolo la figura della donna e lei non voleva fare questo discorso beh l'avete visto ecco la è agghiacciante perché credo che il me too sia un tema troppo importante per essere liquidato in questo modo e quello smonologone che fa la ragazza rossa no quella di mi pare sotto il sole di riccione e sotto il sole di amalfi come cazzo si chiamava è proprio da e da social e da social tik tok dove ci sono queste qua che parlano davanti alla camera e poi tutti mettono i like è un discorso che secondo me è fatto per acchiappare la signora la sciura che prima ha criticato ea ea deriso argentero quasi sente soddisfatta di segue anche se non ha una vita splendente dice beh però ci sono questi film che mi tirano su la vita perché ho una vita infelice no perché è un è un discorso che potrebbe essere interessante ma non fatto in questo modo anche perché si critica il famoso video di questo programma dove si è dove si è mostrato la donna il ridicolo ma allo stesso tempo non lo vediamo sarebbe stato molto intrigante mostrare il video e poi fare un discorso serio approfondito di analisi cioè non dico che debba essere una cosa super impegnata però che ci faccia un minimo riflettere invece no è una un vomitare luoghi comuni per dei personaggi che sono dei luoghi comuni la parte dove lagerini si incazza con fresi che un po regge fresi regge un po ma lagerini che fa sopra le righe così no lei è una brava attrice e vedeva così mi fa male perché sembra quasi una che ha finito di di recitare invece no invece no tutti i personaggi sono sopra le righe come questo direttore del del programma che quando la rossa poi fa il suo discorso faremo io la voglio via ecco tutti i personaggi di questo film soprattutto dell'ultimo racconto sono delle macchiette poi non mi basta il contentino dell'ultima scena dove la rossa che è stata cacciata poi si abbraccia con con il tizio che era presente nel secondo racconto quello del capodanno è un contentino per dirci vabbè sì 99.9 degli uomini sono stronzi per lui è bravo è bravo quindi donne non vi arrabbiate e e uomini non vi arrabbiate non mi piace questo modo di fare cinema non è cinema questo è non lo so è molto propaganda è un vendere la droga per i derogati no per chi vuole vivere di luoghi comuni questo è il film perfetto mi ha ricordato molto siccità di virzi ecco il nome del regista virzi lo stesso nel suo film splendido che ho visto a venezia faceva cagare il film perché era terribile questo prendersi sul serio poi perché se tutto fosse stato molto ironico io lo posso capire a una cosa sull'ultimo episodio io pensavo che la storia con la figlia avesse un peso perché all'inizio vediamo che la figlia dopo che ha rischiato di morire perché si è suicidata con le pasticche e la figlia della gerini allora io pensavo beh sarà collegata questa storia no in realtà serve solo per farci vedere la gerini come una vittima quindi lei è stata molto disturbata da questa storia giustamente e sul posto di lavoro i tre uomini la vessano quindi è proprio una idea stupida didascalica populista e che ha ben poco valore per me questi sono i film che non dovrebbero mai essere fatti perché omitati un tema però bene oppure cerchi di fare un altro tipo di discorso più sempli qua edoardo leo mi ha deluso come uomo perché se scrivi una cosa come questa posso apprezzarlo come attore ma se poi vai a scrivere il soggetto la sceneggiatura e la regia che non è niente di che allora io ti dico edoardo leo caro mio limitati a recitare perché non il resto mi sa che non lo sai fare bene questo volevo dire niente quindi sconsigliatissimo ma l'ho già detto prima voi l'avete visto non lo so fatemi sapere ciao l'avete visto non lo so fatemi sapere ciao